. . Superficie complessiva di circa metri quadri 474,00. Locale ad uso garage, posto al piano interrato. . . . di circa metri quadri 14,00. Locale ad uso garage pertinenziale, posto al piano interrato, superficie complessiva di circa metri quadri 13,00. Sito in, via della Pernice Terme. Prezzo base, 160.875 euro. Vendita senza incanto, 18 dicembre 2018, ore, 10. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 9.53. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato avvocato Lavinia ML Rossi in Terni, corso del popolo N. 63. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Tribunale di Terni, esecuzioni immobiliari, 280 fratto 15, lotto 1. Diritti di livellario, terreno costituente l'area di sedimi su cui insiste appartamento di civile abitazione, strutturato su tre piani e su rata di terreno costituente area scoperta di pertinenza del fabbricato, di ar 28,76, metri quadri, 2876. Sito in, vocabolo Le Selve Giove, Terme. Prezzo base, 93.000 euro. Vendita senza incanto, 21 dicembre 2018, ore, 16. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 10 e 8. Luogo della vendita, studio del professionista delegato avvocato Galeazzi Roberto Via G. D'Annunzio N. 2. Terni. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Tribunale di Terni, esecuzioni immobiliari, 88 decimi ex orvieto, lotto 1. Piena proprietà, terreni agricoli. Paciano, Perugia. Prezzo base, 15.750 euro. Vendita senza incanto, 21 dicembre 2018, ore, 16. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 10 e 24. Luogo della vendita, studio del professionista delegato avvocato Venturi Francesco Via Garibaldi N. 38, Orvieto. Per informazioni, chiama il custode giudiziario prenota una visita.